Altissimo. È stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza il motociclista che intorno alle 13 si è scontrato con un'auto nella frazione di Molino. Sul posto i sanitari del suo M118 e gli agenti della polizia locale, frite leggere per il conducente dell'auto. Schio. Ai carabinieri era arrivata la chiamata dei residenti. In via Pasubio a Schio erano stati segnalati una serie di atti vandalici. Recatisi sul posto, poco prima della mezzanotte, i militari hanno ricostruito quanto accaduto. Fioriere rotte per strada, il parabrezza di un auto danneggiato dai cocci. In base a quanto segnalato dai testimoni, i carabinieri hanno rintracciato e denunciato un 26enne di Schio, già noto per precedenti di polizia, che visibilmente alterato al termine della discussione con un coetaneo, si era lanciato sulle fioriere lungo la strada. Per il giovane, accompagnato in pronto soccorso per essere medicato, è scattata la denuncia per danneggiamento e getto pericoloso di cose. Piovene rocchette e fuori pericolo di vita al motocicliste che domenica era caduto per evitare l'impatto con un furgone in via Rossi. L'uomo in sella al mezzo con una passeggera era arrivato ad una velocità sostenuta proprio mentre il Ducato stava svoltando a sinistra per immettersi nella via che porta la ditta alla Nerossi. La brusca frenata e l'asfalto umido hanno fatto perdere il controllo della pesante Harley, scaraventandoli entrambi a terra. Ad avere la peggio è stato il pilota che per le gravi lesioni riportate è stato trasportato d'urgenza a Vicenza con l'elisoccorso. La passeggera invece è a Sant'Orso. All'autista dell'autocarro, trovato positivo all'alcol test, è stata sequestrata la patente. Bolzano Vicentino. Un pastore tedesco è finito intrappolato in un fossato in località Cabenetti. Un cittadino lancia la segnalazione alla polizia locale. Gli agenti accorrono sul posto e, al loro arrivo, sentono i gemiti di sofferenza provenienti dal tunnel di scolo sotto al tratto autostradale dell'A31. Il fossato è colmo d'acqua e fango e il cane, visibilmente scosso e stremato anche a causa delle alte temperature, non riesce a uscirne. Gli agenti lo soccorrono e chiamano i veterinari dell'Ulso 8 Berica per le prime cure. Niente di grave, il peggio è passato. Sira, femmina di 4 anni, viene così riconsegnata sana e salva alla sua padrona.